bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video su grani 3 allora avevo detto che un passo video lo facevamo se arriviamo a 50 like a bisogno di metica da genere la bo quindi ci vediamo quando aggiornero la ed eccoci qua ragazzi siamo tornati l'ho aggiornato da quello che ho visto sono uscite delle cose nuove andiamo di easy e andiamo così allora vediamo un po cosa ci sta nel vicene cosa ci sta nel che si dice cosa ci sta nel nell'aggiornamento e così vediamo un po allora andiamo andiamo se devi uno vai allora appena già spawniamo dovremmo già vedere eccolo lì oddio aggiornamento secondo me l'hanno fatto anche molto bene vai vai ok andiamo adesso che sblocchiamo andiamo a vedere subito il fatto mi che bello oddio tickets un dollaro per e don't work sembrate che l'audio in questo video non ci sia da perché non ho messo le cuffie quindi l'ho basato tutto quanto a z però non è che questo qua mi chiamo la madonna questo qua sì a parte otto vero ti cocone ok non vi dico già che non credo che riusciremo già a scappare quindi non pensate che riusciremo a scappare già però ci proviamo se non è così difficile cazzo penavos che completiamo granny 3 delle cose che vai 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 piccolo coppetto più ok adesso dovrebbero avverirci ad inculettare da quello che porco due oddio devo aprirlo ah di nuovo che palla ma perché la persona mi chiude qua dentro capito vabbè andiamo uh questo qua già stavo ok no no mi stavo stavo già dicendo cosa per niente allora per la ci siamo andati e non è che abbiamo trovato chissà cosa qui non c'è niente c'è solo scheletro e andiamo a vedere anche stanno tutto fuori stanno ma lì da molle diciamo due dovevano chiamare gli scemi 3 dovevano chiamare e poi da che volume a zero non riesco a capire se faccio casino oppure no per questo io mi sto sempre cagato in gol capito ok ma non possiamo andare quindi andiamo per sopra oh no no stiamo trovando niente oh vai oh 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 eccoci qua non credo che la granny possa arrivare qua cheat poi adesso ce l'ha ritroviamo qui ok scusate sono andata attivo a fare una cosa sono andata a chiudere la porta ok e adesso possiamo ritornare qua allora c'ho paura di fare cose delle minchiate capì ok oh qua se ce ne ho mi sa che mi sgancio una bella morte oh evitiamo di non farci non fare cazzate ok qua dovrebbe starci lupicciono lupicciono dovrebbe starci e dovrebbe stare là ecco là infatti sto adesso non lo so che se col tronco posso fare qualche cosa però mi sa di no oh ciao ah mamma ah sto strano ok e non lo so proviamo tanto per di qua e sei coglione cioè se ti se fai oh che cosa cacchio sono queste cose oh mi è partito un video su granni ma che cacchio sto vedendo what the fuck vabbè interessante ok andiamo ok vai ok adesso giochiamo mettiamo la speed no ok non la mettiamo perché a parte che non ce la fare mai comunque non ci non capite massimo con 10 e lo so è un po' troppo però io non so giocare granni 1 l'ho completato potrei iniziare da granni 1 poi da granni 2 da granni 3 effettivamente c'ho la macchina c'ho la macchina c'ho la macchina io c'ho la macchina e tu non c'hai niente io c'ho la macchina porco oh dio granni turkish chalushu chalushu ah stasera persone che pallano mi dissocio da quello che possono dire ma che cazzo e mo che faccio granni ti prego risolvi puttana sto anche zoppicando comunque è impossibile che sia così lenta eh cranni è impossibile che avevo trovato proprio quella giusta giusta adesso lì vero sicuramente perdi no come è chiusa no non era chiusa oddio perché ho fatto una con la testa c'ho paura c'ho paura c'ho paura c'ho paura andiamo a perdi qua o almeno si può andare questa cosa era la mia stanzina però a shade che non sono un cazzo io ma ok si può nascondere anche sotto al letto quindi facciamo così così e così e nascondiamoci sotto al letto mi ricordo che c'era anche un modo per baggarla però era su granni 1 e non so se l'hanno fixato oppure no bambè andiamo a facciullo oddio dai non viene questa focca mi fa cagare mi fa cagare addosso perché è venuta Nonno di merda! Non carico Ma bello come fa? Ma se guardi per lì Se guardi per lì Come fai? Eh, cioè, ammazzami Che cazzo devo dire? Mi inculetta Ma comunque così fa il nonno Ah, perché diciamo C'ha lasciata icona Quindi non ce la fa Ma vabbè ragazzi Credo che per questo video è stato tutto ragazzi Se vi è piaciuto lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E accedete la campanella Per non perdervi altri miei fantastici video Ho fatto questo video solo per Vedere insieme a voi Cosa poteva starci lì Quindi ci vediamo A un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi